Una rimonta storica come il 6-1 al Paris Saint-Germain andava festeggiata come si deve e i tifosi del Barcellona lo hanno fatto fino all'alba, trasformando le strade e i quartieri del centro in un enorme carnevale. La gioia incontenibile dei sostenitori del Barça si è riversata sulla Ramblas con decine di miliardi di persone in stato d'estasi. Grande partita, abbiamo sofferto fino alla fine, nessuno pensava possibile segnare tre gol in dieci minuti, solo una squadra come il Barcellona poteva farlo, abbiamo scritto una pagina di storia. Siamo grandi, non me lo aspettavo, è accaduto tutto alla fine, è stato spettacolare, non ho parole. Oltre che per i tifosi, la remuntada è stata occasione di festeggiamenti anche per i calciatori della squadra catalana. La stampa locale riferisce che molti di loro hanno fatto mattina in discoteca in un clima di gioia che nessuno dimenticherà. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.